Questa non è democrazia, che tutti i progetti possono essere condivisi o contestati, ma senza mai uscire dall'ambito democratico e del rispetto. Ferma condanna per il gesto intimidatorio e unanime solidarietà al sindaco di Cortina d'Ampezzo, dai massimi rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali, oltre che del mondo economico e produttivo bellunese. Un fatto inaccettabile per il presidente della regione, che assieme alle istituzioni regionali esprime vicinanza e solidarietà al sindaco Gianluca Lorenzi. Con la vita delle persone non si scherza, il dissenso non deve mai arrivare alla violenza. Invita le istituzioni locali a fare quadrato il presidente della provincia di Belluno, assieme all'intero consiglio provinciale. Il concetto deve essere forte e chiaro, la voce del dissenso non può mai superare il limite del vivere civile. Per il primo cittadino di Belluno, Oscar De Pellegrin, vincitore di sei Olimpiadi, gesti come quello subito dal sindaco di Cortina non sono sportivi, offendono lo sport e le nostre comunità che si stanno impegnando per accogliere al meglio questa opportunità. Di attacco vigliacco parla il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, secondo cui il dibattito è normale e fondamentale, ma la violenza non è mai la risposta. Lo sdegno per le minacce di morte al sindaco Lorenzi unisce trasversalmente il mondo della politica, per il quale il linguaggio delle intimidazioni è inaccettabile, vergognoso e intollerabile. Un attacco violento e inqualificabile, afferma il presidente del Fondo Comuni Confinanti, Dario Bond. Per tutti l'augurio che forze dell'Ordine e Procura di Belluno possano al più presto fare luce sulla vicenda, identificando gli autori delle minacce. L'appello del presidente dell'Anci Veneto. Alla politica, ai sindaci, ai cittadini, è quello di restabilire un rapporto che sia di rispetto, che sia costruttivo e che non esca dai paletti della democrazia che devono essere alla base di ogni confronto civile.